Giuliano tu sei il biografo di Sabatino Cattoggio un paio di settimane fa avevamo mandato proprio un tuo pezzo dedicato a Sabatino che ora ci riproponi dal vivo prima della faccia pubblicitaria e al rientro ci vedremo lo scherzo a Luciano Mancini anche qualche altra chicca proprio relativa all'ex CT del Gambia e non solo ma intanto andiamo con la dedica di Giuliano De Matteis a Sabatino Cattoggio Nero questa sera in tutti i sensi Dopo questa Sabatino ormai è dura ed è che segni solo su rigore è da questi particolari che si giudica un ex giocatore troppe pizze col formaggio e torte al testo dalla Maria ormai sei buono per la Wisp o per CSI a te Mancini non te farebbe gioca mai te metterebbe a rifar il battimuro sulla serranda del Bellucci Bar e non fai gol su azione da dieci anni la porta ormai tu non la vedi mai pensi solo la porta alla pipa mo te taglia pure il ripa dopo questa dopo questa salutartici Giuliano perfetto Giuliano ti è piaciuto eh mister dici la verità dagli un voto anche chitarrista giornalista chitarrista centrocampista di tutto e di più grazie a tutti